La vita è un paradiso di bugie. Indovina che è tornato dal mondo dei morti? David Bowie. Bowie? No, Antonio. Da Irlanda, vi dà il bello dell'aeroporto di Palermo. Lorenzo. Come mai sei vestito da biggis? Sono felice di rivederti. Ma ti pare che questo si fa vivo dopo tre anni con sta minchiata del libro? Lorenzo, amore, sono 90K, no tax. Lo sapevo e alla fine dicevi sì. E che ti dice che ho detto sì? Perché hai detto no. No. Ho detto sì. Il suo prozio William Shakespeare era siciliano. Più precisamente di Messina. Non aveva più senso di cominciare a suonare. Io veramente non tocco uno strumento da tre anni e sto benissimo. Io invece non sto benissimo. Ma me lo vuoi dire perché minchia sei sparito. E mi ero stancato di quella vita. Allora stavo veramente male. Accumulare oggetti. Inseguire obiettivi sempre più alti. E alla fine a cosa mi è servito? Insomma, guarda tutto questo. Che c'è da guardare? È una merda. Ci siamo presi tutto. Adesso è il momento di restituire. Mi piace il cinema. Sì. Quella ha fatto squadra antimafia. C'è da guardare? So. Che c'è da guardare? No.